San Cataldo, la città della scinnenza e dei San Paoloni. Questo è il titolo del libro di Claudio Arcarese che sarà presentato sabato prossimo, 17 marzo alle 17, nell'auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo. Claudio Arcarese racconta con dovizia di particolari la sequenza cerimoniale sancataldese. Il testo è corredato da oltre 160 fotografie e si pregia della prefazione di Monsignor Rino Ladelfa e della postfazione del professore Luigi Bontà. I fotografi che hanno partecipato al progetto, oltre allo stesso Arcarese, sono Salvatore Pirrera, Claudio Lipari, autore tra l'altro della splendida immagine di copertina, Luigi Di Pietra, Giancarlo Mogavero, Alberto Di Vita, Francesco Lopresti, Giovanni Mammano, Vincenzo Scarantino e Valerio Cimino. L'acquisto di questo volume ha anche una finalità utile, in quanto la somma eccedente alle spese di pubblicazione sarà devoluta all'Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico e servirà per il restauro della vara del Nazareno, la più antica, che nel 2024 compirà 100 anni. Nel corso della presentazione del libro sarà proiettato il trailer del docufilm Il Raccontatore, prodotto da Primo Piano SRL, ideato e diretto da Giancarlo Mogavero. Anche il film racconta la settimana santa sancataldese. Anche il film racconta la settimana santa sancataldese.